Siamo qui alla fiera CMT. Ho dovuto leggere perché non mi ricordo. Non ce la possiamo fare. Ah, però non abbiamo detto di dove. Alla fiera, non siamo qui. Allora, aspetta. Siamo alla fiera CMT Stoccarda. Ce ne sono. Pensavamo molto meno. Alle 10 di lunedì mattina. Pensavamo meno. Allora, aspetta. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.